Una delle domande che mi fate più spesso è Andrei, ma alla tua età come fai a viaggiare così tanto ad aver visto così tanti posti? Che sei figlio di uno sceicco, vivi di rendita? No, semplicemente viviamo nel ventunesimo secolo, esiste internet e se sapete utilizzarlo un minimo riuscite a farvi un viaggio con gli stessi soldi che spendete per andare a cena fuori. Non ci credi? E io ti faccio vedere come. Se ad esempio aprite Skyscanner da desktop e selezionate l'aeroporto di partenza che è l'unica cosa certa avrete modo di trovare dei voli a letteralmente 10 euro. Come destinazione dovete inserire ovunque, come periodo invece selezionate tutto il mese e poi il mese più conveniente. Cercate i voli ed ecco qui, io da Roma posso arrivare in altre zone d'Italia a 11 euro, in Croazia a 12, Regno Unito a 12, Austria a 13, Bulgaria a 16, Francia a 16 e così via. Per esempio selezionando il Regno Unito c'è Liverpool a 12 euro, Nottingham a 15, Edimburgo a 16, Londra a 16 e attenzione stiamo parlando di andata e ritorno. Selezionata la destinazione si aprirà il calendario con tutte le date e i prezzi per singolo giorno. Nel prossimo video parliamo degli alloggi.